Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi giocheremo a questo gioco Di livello Allora Ok Sappiamo che Qui c'è un buco Difficile Oh Volevi Eh Per non entrare in uno Sono caduto Ma Ho cliccato e non è assaltato Ce l'ho fatta E io come devo fare Ma come ho fatto Ok No no Sì ma io se casco nel primo non ce la faccio mai Ok Oh no Oh no il primo non posso non ho detto che mi potevo aspettare di tutto però se io casco in collo fermo però anche allora no ok ce l'ho fatta c'è voluto un povero allora stavo dicendo però questo se uno si muoveva vorrei tirare qualcosa e spaccare un muro ma leggermente assaltato eia ok 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 ma che ma che ok allora si ferma allora quarto livello è meglio prendere le monite ok ok ah non mi fa andare ah ah alla terz'ultima si salta quella sopra non la vado a prendere facile che cosa è successo io mannaccia i punti invisibili ah ho capito mi è venuto un colpo allora con calma con calma perché esplodere è una cosa che fanno tutti no oh cavolo ufff sono morto 41 no 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 con i comandi investiti no cos ok u sono più forte con i comandi investiti che senza un ufff bene auto auto paura per un po' ok 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 quindi devo fare è difficilissimo è difficilissimo è difficilissimo io ho capito ogni volta che io ho capito ogni volta che salto su uno di questi cosi si invertono ehhh ok no 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 ho la parte centrale ok facile questo oh no ma è veramente difficilissimo questo no 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 ma perché non salta questo no 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 però vorrei veramente vorrei veramente tirare qualcosa nel muro ah finalmente una torta che devi fare ok ma ho cliccato questo ma ho cliccato questo come devo fare ah non ho capito allora devo aspettare l'ultimo quindi calma il mercato no 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 come ho scommillo ma qua si の . . . . come ho fatto? non lo so nemmeno io bene bene allora ok no e come si fa? no mi sono fatto troppo a sinistra ok no sono andato nel panico ok è difficile è difficile allora boing 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 ok ok cioè ma io ci ho messo due euro per fare questo e tu mi fai morire così vabbè ora lo so volevi? no non ce l'ha non mi hai preso allora ok 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 sì primo colpo non ti ho la trasporta mannaggia allora come 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 è possibile che mi sono salvato non lo so così co ok sì aspetta 3 2 1 via ok ah ok no 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 ma perché vado di fretta allora ok 3 2 1 via ah sì genio 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 sono come come devo fare come devo fare vedi sono secondo me qualche neurone lo sto perdendo ok no 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 come ragazzi per questo video è tutto se vi è piaciuto il video mettete like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e ciao ciao